benvenuti alla voyager cup oggi parleremo tra pochissimo delle nuove regole europee per quanto riguarda gli spostamenti in fatto di turismo a causa della pandemia e di novità che arrivano dalla francia e anche dall'irlanda tra pochissimo sulla voyager cup ciao a tutti e benvenuti alla voyager cup primo appuntamento del 2022 allora oggi parliamo delle nuove regole per muoversi all'interno della comunità europea infatti l'unione europea si prepara a utilizzare un nuovo sistema di gestione della pandemia infatti viene eliminata la distinzione per area geografica quindi italia francia romania spagna insomma viene tolta e viene premiato lo status personale del cittadino cioè quindi se è vaccinato se è guarito dal covid oppure se ha il tampone le mappe di contagio rimarranno attive ma solo a livello informativo e avranno un carattere di aggiornamento settimanale questo aiuta perché diciamo che piano piano la situazione sta andando a migliorarsi sembra ancora lontana la possibilità di dimenticarci del covid probabilmente non ce lo dimenticheremo mai ma sicuramente la libertà nei movimenti è già all'orizzonte la per così dire che poi la comunità europea ha confermato che la validità del green pass è di nove mesi e che invece il certificato di guarigione evado 180 giorni cambierà però la durata della validità dei tamponi nella comunità europea rimarrà stabile uguale a quella del tampone molecolare il pcr a 72 ore mentre l'antigenico viene ridotto dalle 48 alle 24 ore quindi attenzione il valore del certificato antigenico è ridotto di sole 24 ore e parliamo anche di altri paesi della comunità europea come quello della fra come la francia che fa sì che da oggi entra in figura il pass vaccinale questa certificazione che è uguale al nostro super green pass che deve essere mostrata praticamente ovunque ma dal 2 di febbraio anche la francia si è data dei praticamente una scadenza per cominciare a eliminare tipo l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto la fine dello smart working e dal 16 febbraio sarà poi possibile riandare in discoteca in francia oppure assistere a un concerto in piedi e l'irlanda invece ha già eliminato tutte le restrizioni anti covid 19 è ancora obbligatorio mostrare il risultato naturalmente il vostro green pass o il risultato del tampone per entrare in irlanda ma è possibile accedere a tutti i locali senza più mostrare il green pass quando si è lì ma anche agli spettacoli e agli evenimenti sportivi questo per far sì che il turismo riprenda perché c'è proprio bisogno di questo e noi lo sappiamo bene e questa era l'ultima notizia per il primo appuntamento con la voyager cup appunto del lunedì io vi ringrazio vi ricordo che se voi volete farmi delle domande potete farle qui sotto oppure attraverso i nostri canali facebook instagram e anche twitter oppure appunto qui su youtube ricordo che le le vacanze estive ormai sono all'orizzonte siamo quasi a febbraio e ci sono un sacco di vantaggi per le prenotazioni e siete sempre tutelati perché siete sempre coperti per quanto ci riguarda da coperture assicurative in caso di annullamento e noi vi seguiremo anche durante tutti questi passi potete trovare le offerte su voyager125.it che trovate qua sopra e invece le notizie su voyagertraveler.com prima di concludere di salutarvi un messaggio di benvenuto a una piccola stella che è appena nata quindi diamo il nostro benvenuto a vittoria e benvenuti in questo fantastico mondo ciao e alla prossima voyager cup